L'aeroporto di Bologna è una struttura frequentata da milioni e milioni di passeggeri ogni anno. Sono circa 8 milioni e mezzo i passeggeri che hanno frequentato l'aeroporto di Bologna nel 2018. E questi passeggeri lasciano delle tracce del loro passaggio che noi cerchiamo di raccogliere e utilizzare per migliorare la loro esperienza aeroportuale. E proprio per migliorare la loro esperienza aeroportuale da qualche mese ho un nuovo collega. Si chiama Pepper ed è un robot umanoide che accoglie i passeggeri nell'area check-in, dandogli delle informazioni sul loro volo e sull'aeroporto di Bologna. Ed è un modo innovativo, smart, di dare un benvenuto ai nostri passeggeri. Il retail e il food retail sono un elemento essenziale dell'aeroporto di Bologna, sia in termini di business, sia per creare un'identità moderna, innovativa e sostenibile dell'aeroporto. E proprio per questo l'aeroporto di Bologna ha aperto una mensa dedicata a tutta la comunità aeroportuale che fornisce ogni giorno pasti biologici, freschi, sani e che ha ospitato nutrizionisti a disposizione dei colleghi per avere informazioni e consigli sulle loro abitudini alimentari. Io credo che per rafforzare la sostenibilità ambientale negli aeroporti e in generale nelle strutture infrastrutturali è necessario continuare a investire in efficienza energetica, in efficientamento delle macchine e delle tecnologie. Ma un vero salto di qualità si avrà efficientando gli uomini, quindi cambiando le abitudini dei passeggeri e dei nostri colleghi. In quest'ottica a Bologna presto partirà il People Mover, che è questa monorotaia elettrica che collegherà l'aeroporto di Bologna e la stazione e quindi vuole essere un elemento distintivo anche in chiave green, in chiave di sostenibilità di tutto il territorio.